il numero da dammela dai atlantis impact hai fatto il fatto ma davanti sulle anch'io 30 no provare entrati vai casuale dai letto ma che sarebbe un amici carina c'è normale è normale 50 kill e via comunque giocare con la tastiera sorta è bellissimo la carabina e l'assalto normale bellissimo la bfb la bfb la voglio che cura dietro riccardo il portale è tutto scarico sbagliato voglio con tab le vedo ha visto è carino è un po al labirinto pure questa però vabbè ma qua è bello non senti con fare gente di euro con la mitraglietta giustamente ma no bravo che mi ha scoperto io sono cazzo il che padre io credo 2 io 2 e gabriele 2 l'incoglianito stavola carabina perché mi ci vado di grazie e ragazzo l'ho ucciso quale è meglio che sono le carabina o no salto ah sto scurato di me 4 di vita o gabbo vai gabbo bravo gabbo ucciso stato dietro è proprio dietro non ho fatto dai mi dite niente ma non ci sono dietro un altro mamma mia questo è un punto che ci stanno tutti insieme ehm uuuu occhio giro 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 e vabbè c'erano due davanti ehmbeo mannaggia ti ho benedicato ti ho benedicato ragazzi ho fatto un'altra kill GG oh so quello che c'è più kill eh vintorno ai secondi di spawn al bfb buona mossa gabbo iuuu mi sono spawnati due insieme dentro il portale ovviamente rimangono tutti due con poco perché è giusto giusto ma dai non ho fatto manco un tempo a fa niente oh ho ripreso stessa arma e sono rimorto oh stava fede ragazzi come faiiii come faiiii no vedi vita oh no vedi vita oh uff no vedi vita pur io sto rimasto eeeeh viva il ping raga no purtroppo no l'ho visto l'ho visto l'ho visto si è buttato sotto perché sotto ci stanno piattaforme ah no non lo so guarda grande ricame salvato arrivano altri ucciso sta corpo a corpo non lo shotta kaiser morto uno guarda sta zona tutte venite portaglio ma che è eeeeh si sono partito di loro quanto godo il giro di vita sono rimasto tranquillo ricca questa volta l'ho ucciso io ho bisogno di aiuto ragazzi troppo agente troppo agente sta arrivando sta arrivando ricca eh vabbè è morto uno ricca è l'altro non ce la faccio è morto un altro c'ho sette di vita eeeh vai te copro io fatto 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 aiuto arrivo ricca madonna minima qua non lo capisco certe volte morto 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 no è un altro con la mazza eh vabbè questo non posso fare niente e me l'hanno fottuta quello muove per me no ma dai ho fatto 60 morto un altro bravi l'avete ucciso e l'ha ucciso quella con la mazza ah perfetto eh molo per fortuna ce l'ho gliela mazza buono ho chiuso una ahhh ma te aspettami andiamo sotto sotto bianchissimo proprio dietro un altro morto uno perfetto dietro ci stanno a far giro come sai eh si si ci stanno a far giro salvo io spero di poterli uccidere ma ci fai dov'è? vai ok ucciso grazie eh sono morto però ok si hanno vinto chi sarà l'ultima kill? ok noi sono te noi perfetto l'ho detto io so farò la penultima come vedete quante kill mi sono fatto? 17 19 io 10 prima è una partita la prima partita che ho fatto che ha durato da un sacco di round questo qua no come mai? perchè perdiamo? no perchè sono diverse modalità quella è showdown questa è deathmatch diverso guarda tipo un soldato diverso casuale non mi piacciono casuale 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 rete la collina questo rete la collina questo nooo annaccia cristiano tutti tutti elice oddio ci potrebbe stare dai carina oddio che carina questa wow massacrate per merde ma che sto spavano uguali ma sto spavano mi faccia loro in paria ma stanno a fare più punti loro dai ma te niente niente non ti passano ma che quelle che non ho fatto io perché non si può fare gun game perchè non si avevano giocatore raga voi conquistati faccio i kill io sto già conquistando vabbè vabbè c'è l'altro con l'arma buona io sto cercare la mitra se trovi la mitra ecco ecco hai preso posso sono due eh lo so me l'ho tolto metà vita già mi buscerò mi sa no qui ci stanno tre persone quattro oh madonna oh madonna santina maledetta aia 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 sono morto sono morto fucile a plasma va a cagare pialo chi è sciolgo comunque ci ripenso c'è forse per il fucile a spazio per voi che è meglio il fucile da battaglio oppure se vieni qua da me c'è il plasma che ho preso il cecchino no mi aiutano vabbè che il plasma è forte eh sì graa non devi capo vai vai pensate voi cioè curate sì sì ciao se lo devo fare qua la protetta dai lali morto uno morto uno morto uno e riccardo ah bello aaaaaaah e da me c'è sta la prossima oh che bellissimo qui dipendo dal portale è dentro al portale qua non so dove si è qua non so dove si è qua si è riasportato questo eh morto uno arrivo ci sta no vaffanculo stanno arrivando stanno arrivando dove te sto sinistra shit da la parte quella aperta è morto uno ammazzato uno forse aia aia c'era due da me uno morto salvato davanti uno fatta una kill c'è c'è tante persone qui da me troppe ho una bellissima da io da me da me da me e i portali maledetti esattiati la manina rega venite qua a vedi qua arrivo arrivo perché altro non mi riusciranno come riuscire a l'altra è vero che aveva parco due morto uno è l'altro aiutato il team installato tutto dato la prossima colina ha ricoprato la vita vabbè ce ne stanno trella perché non mettono granate ormai è un sito l'altro fai è la casa da dell'anno delle messe andate le mezzo è possibile stava esponato io ho sbloccato che mi sei affrezzato gioco un attimo da 116 punti 15 kg 10 kg anche io guardareva sempre più di me ci si vuole sempre io no vedai ci sta no che sarebbe era show down no take down c'è da una che farebbe charlie è quella prima quella che quella c'è tre persone se muore uno quello deve guardare che io pesce la onda come pistola sicuro moro moro i capo e si può essere aggressivo sono me eccoli da dove ci sono fatto uno non ci sono arrivato a quello uno più uno uno di uno gabriè ma il tuo tuo se la coppia io non è stata per cura da prima lui lei non l'ho capito visto tutti insieme non l'ho capito dai partito prima lui questo m'ha visto cazzo sto con te vado come plasma buono utilizzo ma è abbastanza buono dai però si riscalda eccole eccolo comunque buona capriè meglio di quell'altro cioè con l'altro pure molto buona ha chiuso i portali a me ho citato grande gabbè grande a questa piace un bot è più più sul cardipalva anche la mazza che è meglio oddio sono tutte e due però boh ti dici ti dici di ritrovo arrivano ma fregato bene mazza tutti i tre morti insieme comunque vero questo mi sono una testa e buona pistola più bambini è bello bella ha fatto quasi tutti vedo ma stavano arrivano non si è matta arriva 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 insieme amato insieme è rimasto una è rimasto una grande tg questa volta ho colpito prima eh è tanto vi suscitate se fate entrambe con la mazza eh sì però se rimani 1v1 che colpisce vince prima o queste armi qual è meglio e dice dipende da me da me c'è uno di vita ucciso dietro me ce n'è uno c'era morto uno morto uno morto uno non c'era che si può sciurato di morire però attaccato i muri capo da me 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 mari libio puoi fare un box ok s'entrata da l'altra parte uno buono buono 32 mi sembra che si è luciva tra i muri eh dico rod hm non penso cecchino e la madonna bellissimo ecco mangi ho preso in testa pensate aia e sono morto per io ma non è serato proprio 60 ragazza dai sono capri a scusa che ha fatto dove favo il cecchino che si faceva in a culo no pensavo che della andava invece no c'è il muro cioè se va ma di piccola col gesto arrivarci più o meno carabina e vado di vado di mazza questo non mi piace tanto la carabina questo lavoro la bfb sarebbe la mazza ma capito che senti come rischio quello e sono essenziali e uno stati qua vota metà 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 30 o scapposca doveva delle seif gioca delle seif ma non vede mazza quando sei così ma se infatti non viene questo giro chiaro chiaro messa dietro ora questo ma è stato non lo so tanto è un uomo l'ho ucciso dove l'amato dato quello che so fare mazza gabriel vabbè vede mazza volete matteo vede ma sarà qua sarà qua davvero ecco lo sapevo perché ci sono nato perché non entrare portare gli avversari perché sono entrato non c'entra non c'entra quello chiudilo bravissimo sono entrato un ha fatto squadre ma non stato è un certo non c'entra non non rischiare a fare sti salti così che se finisci il busto vai da sotto eccolo ma 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 mi viene andata in carabina vai non c'entrare mi raccomando girati dietro attento non stava fisso sul portale questa è la mia seranzia eccolo vai io ho visto parte prima lui prova di stato distante e ammirato sono già tre round che ci accadevano a mille per popolo cecchino addiosi che non ho rica posizioni con loro buono buono baci che non si può dire che non lo mette che lo dico preso è tanto per morio e ma non ho preso col cecchino ucciso uno si è rimasti due v2 aveva preso con cecchino sempre vai gabriele vai gabriele scarico no bravo di danno io ho fatto gabriele riusciata uno vinciamo questo vinto ma uno se l'è fatta a matteo due io quindi no io non ho fatto uno no non ho fatto io uno ho colpito il cecchino ma non ho io regalo vinciamo questo abbiamo vinto e assalto concentrati 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 eccoli ma metà 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 nooo ora sono sponato sto a morì sono morto eh vabbè vabbè vai gabrie se uno v3 non si non entrare fino a quando devi portare i versari ah è smirato probè ma spardo capri acquarci se vincono questa andiamo all'undicesimo incredibile allora bisogna vincere questo a card e palma tra la fine abbiamo di fb bono via plasma buono da me da me gabbono non fare cazzate ho chiuso ma lato dall'alto 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 morto ma hanno ucciso 1 v1 1 v1 grande grande ragazzi quello la ma ci sono c'è mi ha lasciato uno di vita che era una mazza del morto quello la mazza del morto 3 il 3 di cil 3 di cil